La stazione interrata che era presente qui a Parma già da diversi anni per completare quello che è il progetto di mini eco station all'interno del centro storico dell'oltre torrente con questa stazione siamo arrivati a 6 mini eco station più 8 eco station la finalità è quella della flessibilità, coloro che abitano in centro storico e inoltre torrente potranno conferire rifiuti anche durante l'orario non canonico, quello fuori da calendario nel caso in cui per qualche motivo non siano riusciti a conferirle nell'orario a porta a porta per cui questo è nella direzione della flessibilità anche per cercare di agevolare il più possibile il sistema di gestione dei rifiuti che è comunque un sistema che funziona seppur ha una sua rigidità ovviamente di calendario Per poter conferire è necessario premere il pulsante posto sulla bocchetta avvicinare l'eco card in automatico la bocca si aprirà e il cittadino a questo punto può conferire il proprio rifiuto sacchetto e dopo un tozzo di secondi la bocchetta in automatico si richiude